Ciao! E se ti dicessi che esiste una carta con lo 0% di commissioni sui prilievi in tutte le banche italiane e estere, sugli acquisti, sui cambi di valuta e che sia attivabile anche dai minori di 18 anni? Una carta richiedibile online in 5 minuti con un selfie tuo e del tuo documento di identità e che alla prima ricarica di almeno 1€ te ne regala ben 10 e che faccia anche da conto corrente con IBAN dove per esempio puoi accreditarci il tuo stipendio. Una carta che ti permette di risparmiare impostando i tuoi obiettivi e che ti dà una mano a raggiungerli. Il tutto gestito da una semplice applicazione attraverso cui si può inviare e ricevere denaro con la velocità e la semplicità di un SMS che ti garantisca delle offerte dedicate su tanti siti per esempio viaggi e vestiti e soprattutto che sia abilitata Apple Pay e funzioni sul tuo Apple Watch. Una carta che ti permetta di tenere sotto controllo sempre e ogni momento tutti i tuoi movimenti con un semplice sguardo. Facciamo un esempio. Hai anticipato dei soldi per il compleanno di una tua amica. Fai la richiesta dei soldi, ricevi il denaro dai tuoi amici e il gioco è fatto. Facile no? Non ci crederesti, vero? Beh, invece questa carta esiste. Si chiama Hype, è contactless, gira su circuito Mastercard ed è emessa da bancasella. Hype, registrati con il link in descrizione, è gratis e alla prima ricarica di un euro riceverai 10 euro in omaggio. Grazie. 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 Grazie.